Ragazzi un cube, un cube con la jolly moto, quella Honda NSR HRC Mostra scambio di Novegro, anche questo 2023 vi porto con me a vedere questa stupenda manifestazione 50.000 metri quadrati dedicati allo scambio di accessori anche introvabili, accessori moto, moto, auto d'epoca è veramente un'esposizione bellissima, ampissima, infatti come vedete alle mie spalle è davvero enorme c'è una parte all'aperto e poi un caponone anchiuso pieno di sorprese quest'anno la tematica moto e scooter che hanno fatto la storia quindi vedremo anche poi all'interno quelle che sono dei pezzi veramente belli belli che hanno fatto appunto la storia adesso vi porto con me e oggi riesco a farvi vedere la fiera il venerdì mattina che è ancora chiusa al pubblico perché apre il pomeriggio per poi prolungarsi fino al sabato e la domenica quindi vediamo realmente quello che è disponibile ancora prima che arrivi appunto il pubblico il mitico Fifty, chi è che non se lo ricorda? guardate serbatoio, ad esempio qua abbiamo quello di un gilera SP02 anche se come verniciatura è un po' diversa dall'originale ecco abbiamo quello che rimane di un RGV2 e mezzo come il mio come potete vedere ci sono anche dei pezzi abbastanza improbabili un gamma 250, non originale un RG125 che direi che è davvero raro non aveva avuto un enorme successo però targa originale Catanzaro e sembra in buone condizioni questa vederla non è facilissimo la tachimetro dice 17.500 km cercate una gomma usata anche questa si trova la mostra dello scambio questa mostra che ormai moltissimi conoscono soprattutto gli veri appassionati si svolge due volte l'anno tipicamente a febbraio a novembre e arriva gente da tutta Europa sia chi vende e chi acquista invece perché si trovano davvero spesso e volentieri pezzi che in altre parti non si riescono a trovare proprio perché arrivano anche dall'estero se cercate una Vespa c'è pieno di espositori davvero ce n'è un numero enorme cercate un Enduro, un Cross qua c'è proprio tutto guardate che KTM Honda Kramit TM ho visto SVM guardate ad esempio questa Air Machia R & Davidson con motore Air Machia R & Davidson e dietro abbiamo un SVM restaurato veramente bello guardate qua aprile a fionosintesi abbiamo una carrozzeria quasi completa lì pezzi di RGV VG22 adesivi poi non solo accessori vecchi ma ad esempio qui abbiamo una livrea della T2 Racing di un Ducati parti speciali in carbonio Monster 999 anche come vedete lì in fondo carene del Panigale V2 serbatoi quindi terminali quindi si trova veramente guardate questo bello scarichetto Acra e guardate qua ragazzi che bella questa Honda 750 rarissima non ne vedevo anche di queste veramente da anni poi in ottime condizioni stupenda e qui abbiamo tre fantastici personaggi di Mantua che grandi Mantua cosa si mangia di buono? risotto alla pilota aspetta e com'è la pilota? risotto alla pilota ecco la salsiccia e la costina per esempio pensate quanto è difficile trovare un serbatoio Hercules del Caballero del KTM e qui c'è la speranza di trovare non mancano anche le macchine come dicevo guardate qua abbiamo una Jaguar MK2 targata Genova la mia città sembra in buonissime condizioni del 63 21.000 euro guardate che bella l'interno in legno scarichi due tempi che insomma si possono trovare di diversi modelli anche se vabbè i più rari naturalmente è difficile quella è una Gagiva Lettaoro S2 e da un sacco di tempo che non la vedevo e qui abbiamo una bella 99S bellissima super accessoriata guardate con parte in carbonio bella bella sembra mossa veramente bene questo stand ha un sacco di accessori Ducati guardate qua porta targa porta targa che è messo qua con la lucina a led qui abbiamo pezzi di carene sempre del 99S insomma di vari modelli Ducati 848 bianca e rossa ciao ragazzi ciao complimenti avete un bel po' di cosette carine senti ma questo 99S è quindi in vendita questo 99S a meno che non ricevo un'offerta che non posso proprio rifiutare in vendita ok ho portato per attirare penso che è pieno di parti speciali eh sì c'è un sacco di ma tu sei di Desena io sono di Desena ma non la siamo di Conterradio se vogliamo più specificare sono di Mele mele mitico dove c'è il Turchino dove si fanno le pieghe giusto spettacolo ci sono i bardo della prima curva seria del Turchino è la sua si mangia anche bene lì c'è una trattoria c'è ancora ma c'è il Shindukaru eh sì un po' più alto però è Turchino valida valida ottimo senti ma ce la fai sentire accesa sì un orologio spettacolo senti ma questo portatarga molto curioso molto particolare e diciamo unico perché questo portatarga l'ho fatto io per quella moto di infatti l'ho visto montato è il primo prototipo che è un po' diverso da questo un po' più spartano poi ho messo le foto sui vari siti gruppi di facebook e la gente è iniziata a chiedermi ma dai dove l'hai preso e te l'ho fatto io ah fammelo quindi insomma lo troviamo online lo trovate sì portatarga Ducati l'ho fatto se qualcuno lo vuole se no qualcuno lo rendere molto particolare bene va beh ragazzi birretta quei ragazzi non si può rifiutare un cube spettacolo questo è veramente un pezzo fantastico ho visto quotazione di questo mezzo arrivate a 8-9 mila euro ora per curiosità voglio chiedere 6 mila euro quella Honda NSR HRC che splendida coppia eh colori anzi trio bisognerà di da restaurare come anche là un cupolino insomma sono comunque ottime basi per restaurare abbiamo un benedio leoncino bellissimo un motom un gilera 175 naturalmente due tempi la mitica BMW R65 il ciao il califo di tutto abbiamo anche una RS50 guardate che belle queste lamberette 50 perfettamente restaurate come anche queste veramente bellissime e poi naturalmente si trova tutto quello che è accessoristica anche per la pulizia teloni copri moto vernici aziende che rifanno serbatoi codoni parafanghi cross a nastro e comunque nel mondo cross e enduro come vedete c'è veramente un sacco di accessori di moto di roba come sapete ho anche provato ho cominciato ad andare un po' su moto enduro motard grazie a Bikes4Eddy e poi si trovano anche piazzole come queste dove ci sono anche oggetti di arredo bellissimi guardate ops biciclettine da soprammobile poi Stemi Vespa Ducati Corsa Lamborghini c'è veramente di tutto anche qua e si può trovare la qualunque guardate quanti belli accessori per il proprio garage non solo ho una gilera Arizona è la prima moto che ho guidato altro 250 top questa Xcel 600 venduta una da 500 Ford Kawasaki 750 la 750 Ford come l'anno scorso guardate che belli accessori Bimota che si trovano in ottime condizioni sicuramente rari Bimota Kawasaki KB1 cupolini cerchi un bel cupolino VFR RC36 codone RC24 sempre RC24 cariene anche gli scarichi completi in ottime condizioni e ora dopo aver visto tutto l'esterno passiamo alla parte interna quindi al capannone dove dovrebbero esserci i pezzi e le macchine d'epoca insomma i pezzi più di prestigio e poi li incontriremo anche FMI gli amici di circuito del Tiguglio e questo è l'accesso alla parte interna e qui all'interno per me il solito stand BMW con gli R80 bellissime una più dell'altra guardate che belli questi ciao tutti restaurati c'è anche la cosa c'è anche la cosa Vespe Vespe anni 50 60 e questo pagoda niente male SL350 del 71 guardate anche riviste di auto in questo caso ma anche un po' di moto qui all'interno poi abbiamo questo angolo che ha sempre delle moto molto particolari e anche molto belle qui abbiamo un RD veramente super special direi con forcelle del GSXR insomma è parecchio modificato qui abbiamo un RD500 e un KR1 bella bella è il mitico super bravo ragazzi spettacolo con libretto tutto ma queste Vespe mi piace sempre rivederle sono spettacolari questa l'avevamo già vista a novembre bellissima e poi c'è questo angolino di questo direi artista con queste opere d'arte guardate che figata che sono guardate che belle mamma mia sono fantastiche per darvi la misura questa è la mia mano e qui allo stand FMI troviamo quelle fantastiche moto e la maggior parte le abbiamo viste al festeggiamento lì del circuito del Tigullio il video che trovate online ma ricordate questa guzzi particolarissima come anche la vedo una mondial che andiamo a vedere questa mondial bi albero è spettacolare favolosa ragazzi questa è una mondial 250 bi albero del 57 è davvero bellissima la mitica Benelli 350 il circuito è quello del Tigullio che appunto abbiamo visto l'anno scorso con il video online come dicevo prima che si è già rinnovato a quest'ottobre 13, 14, 15 sempre a Santa Margherita e a Portofino e direi che ci sarò anche perché abbiamo l'opportunità di vedere sentire accese moto come queste che è cosa davvero rara ed è probabilmente anzi sicuramente anche un privilegio sempre nella parte interna abbiamo anche lo stand dell'Asi come dell'FMI ancora in allestimento guardate che bella questa TZ GP abbiamo due bellissimi K100 conservati veramente benissimo e la Prince non posso farevela vedere 598 CC 30 cavalli 570 kg Favolosa abbiamo qua un angolino di moto veramente prestigiosa guardate questa Laverda Moldor 24 ore di Le Mans poi una Norton una bellissima Yamaha grazie naturalmente Asi per non parlare di questo mitico Desmo del 71 450 e questa poi è un'ultima parte all'aperto adesso vediamo cosa ci riserva dove ci sono anche posti dove si mangia e si beve questa me la ricordo questa CX 500 blu nuova di zecca che l'aveva un signore quando ero piccolo io c'è anche chi rifà le targhe storiche se vi servono altre vespe bellissime super restaurate siamo arrivati a mezzogiorno comincia ad entrare il pubblico infatti comincia ad arrivare un sacco di gente e troviamo anche moto insomma di un certo spessore agonistico guardate qua come l'anno scorso c'è sempre la Honda 125 GP e poi anche Cross duro guardate che belle anche questa serie di Morini 50 belli altre RS 50 e qua si leggono nomi guardate Pinasco Genova reparto corte che faceva gli scarichi Piaggio e non solo le Giannelli le Giannelli Power e chi se la dimentica le Proma le Polini l'Arrov c'è veramente di tutto quindi anche tutti gli scarichi due tempi che non è sempre facile trovarli qua ce ne è tanti logicamente ti cerca proprio uno scarico tipo del Suzuki che ho io dell'RS due e mezzo aprilia insomma sicuramente è molto più difficile però qualche speranza di avere qualche gancio qualche contatto qua c'è per questa edizione è tutto ora me la godo un po' anch'io che mi cerco magari qualche accessorio per le mie moto raga fatemi sapere se volete che continuino a fare vedere le mostre ad esempio questa di Novegro sul canale se continua a piacervi per adesso vi saluto e ci vediamo prestissimo ciao